Sindaco, una visita importante qui alla Villa della Regina, che stiamo aspettando? Stiamo aspettando Maria Mathieu, che è la responsabile del Mar Montan, con la quale due anni fa abbiamo incominciato il percorso che vede nel 2019 arrivare finalmente a Bordighiera e a Dolceacqua, i due quadri di Monet, la Vallée del Sasso e il Castello del Doria. Questa visita viene fatta proprio perché ricordiamo che la mostra inizierà nel giugno del 2019 e terminerà nel settembre 2019, anzi scusate, fine agosto, primi di settembre. La visita è finalizzata a vedere i luoghi e dopodiché fare un attimo un punto della situazione in base a quelle che sono state le richieste fatte dal museo per quanto riguarda la sicurezza che dobbiamo garantire al quadro, quadro che ricordo avere un valore di circa 3 milioni e mezzo di Euro. Quindi questa visita era già una visita programmata e sono ben felice, ahimè purtroppo oggi il tempo della nostra riviera non è che l'accolga nel migliore dei modi, però era per il proseguire dei nostri lavori, anche perché comunque sia per la ricerca poi dopo dei fondi necessari, capire se la linea che stiamo portando avanti è quella corretta e quella giusta e quindi che le risorse economiche che abbiamo impegnato e che abbiamo deciso di investire siano corrette e quindi si possa procedere con tutta la parte poi dopo di promozione dell'evento. Da parte sua qualora diventasse nuovamente sindaco c'è quindi ancora la volontà di investire sulla Villa della Regina e rivalorizzarla? Assolutamente sì, la parentesi Monet è una parentesi molto importante ma è la dimostrazione che se possiamo accogliere a Monet possiamo accogliere altri quadri di valore internazionale. Quindi Villa Regina si propone poi dopo come luogo di disposizione per quadri di grande importanza e non solo, comunque sia sistemato il muro che a breve incominceranno i lavori e soprattutto con Monet Villa Regina ritornerà ad aprire e sarà un punto di eccellenza sia per Bordigliere ma per tutto il comprensorrente Emilio e per la provincia di Imperia.